E tu sei stata fino a qui, per troppo tempo sola, fino a convincerti come me, che si può stare da soli. E tu sei un brindis perché, lo vorrei dire a Caneto, con essere qui già gaviamo, io voglio dire che hai che essere amici tutti, hai che essere amici tutti, hai che essere amici, e che questo trascienda carnali, grazie a Dio, che trascienda ma, saluto. Ci sono qui solita, però... Che va a passare? Quien sabe? Si... Oggi tutti stiamo molto nobili, però al ratito... Dio... 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 E' una così e già ti regreso. E' un segundito. Però per che le regole che mettiamo funzionino, voi, voi anche dovete mettere su parte. Ustedes solo cucinano e deixano che la casa se cargasse in pedazos. Non ricogli una cosa più. Non è che noi pensiamo che siamo qui di vacazioni e queste non sono vacazioni. E' un segundito.